SEMI Abbassa quell'arma. Sono Federico von Ohenstaufen, il tuo imperatore. Io sono Alberto da Giussano. Sapete perché siamo qui. Un terzo del vostro raccolto appartiene all'imperatore. Senti, basta. Alberto! So dove stai andando. Te lo levo negli occhi. Se mi ami, dove andare? Il Barbarossa ci ha portato via tutto. La nostra ricchezza, le nostre case, il nostro lavoro. I milanesi stanno alzando troppo la testa, Sire. È giunto il momento di ricordare loro quant'è affilata la spada dell'imperatore. Floccheremo le entrate e tutti gli accessi. Li affameremo. E se non si arrenderanno, l'intera città diventerà una tomba. Ci trattano come degli animali. I milanesi vogliono un'indipendenza. Tu, al contrario, sei la gloria dell'impero universale. Ma adesso basta. Molte città lombarde si sono alleate. Maestà, soldati della Compagnia della Morte, giuriamo di riprenderci questa nostra terra. Di riunire tutte le città in una lega e difendere il bene più prezioso di tutti. La Libertà! Libertà! No! Libertà!